Grazie e bentornati sul canale di Mimì Io sono Marin E oggi proverò a giocare Insieme a voi a Poo Allora comunque Questa cacchina E ha anche la febbre Io quindi direi intanto di lavarlo Perché stiamo già nel bagno Poi facciamo la doccia E' un gioco italiano Poo Ma la febbre poverino Ok Il frigo è vuoto Le bevande Perché quando stai male Ti fanno bene Poo Ok Possiamo pure qualcosa da mangiare Ok mangia Devi mangiare Ok a mangiare Ha mangiato Dai bevi solo un po' Ecco Medicine E noi per non farlo dormire Faremo questo Tieni Poo Bene E ora andiamo a farlo un po' giocare Per far giocare Poo Basta Selezionare giochi Allora Allora Quale proviamo Questo E niente Abbiamo perso Proviamo Proviamo in un altro Proviamo in un altro Pro Grazie a tutti. 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 Poi Poo stava al centro. Allora però questo gioco è super difficile e sto giocando solo da 5 minuti. No, 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 no. Ecco. 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 No ora, Gabi Humberto Ah, ma abbiamo perso Quindi il video di oggi si può anche concludere qui Io spero tanto che questo video vi abbia piaciuto Se si mette un pollice in su e iscrivetevi al canale Ciao Ciao